ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui su monoplico rea vedere come dalle vincite veloci come sempre almeno questa volta come aveva detto io vorrei cercare di non dimenticare l'avevo fatto la scorsa settimana tanto tranquilli che visto ieri non ho portato il video di monoplico comunque tranquilli che già l'ho fatta vedere infatti alla barra in basso adesso distruggi una volta o finalmente a meno così adesso ci esce ecco così bella restituzione ok ok ma io mi manca la settimana a cogliere 3 adesivi ah peccato non ce l'ho dato vabbè tanto adesso comunque dalle missioni qua che devo fare ed è non è vero posso capire pure le probabilità almeno per vedere se riesco a comandare tutte e 50 però non c'è non c'è non c'è niente non c'è niente lo schifo vabbè però grande rapina ok un pacchetto però mi da soltanto due carte come immagino no questa azione ecco qua dobbiamo fare altri venti punti così riusciamo a prendere anche l'ultimo pacchetto ok preciso 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 mentre ce l'abbiamo fatto l'abbiamo completato ci abbiamo messo un po' di tempo però ok quindi che direi a spero che questo video vi sia piaciuto riusciamo al tetech e noi ci vediamo domani con un prossimo video bella raga